È ovvio che mi ricandido, nel senso che io ritengo che sia una patologia del sistema quando un sindaco non si ricandida e purtroppo da quando c'è l'elezione diretta del sindaco ad Ariano dal 1995, nessuno dei sindaci uscenti si è ricandidato. Non si ricandidò l'avvocato Grasso nel 1996, nel giudice Melito nel 2000, non si è ricandidato il dottore Covotta nel 2004. Lo stesso Gamba Corta non tentò il bis nel 2009, lasciando spazio a Magnero con il relativo commissariamento. Oggi però, durante la conferenza stampa di fine mandato, il sindaco annuncia la sua candidatura, collocandosi in un'area popolare e moderata e confermando buona parte della giunta. Una squadra però che ancora non si espone del tutto, pare che il pomo della discordia sia la Lega. Se si va verso l'intesa, alcuni degli assessori più vicini a Gamba Corta non ci stanno a riformare la vecchia squadra. Non ci sono vecchie squadre e nuove squadre, ci sono persone che sono impegnate per la città, per cercare di migliorare le cose. Probabilmente ci sarà qualche innesto nuovo. Credo che l'area di riferimento sia un'area, diciamo così, popolare, moderata, però che apre soprattutto alla società civile e che prova ad avere dalla società civile contributi per migliorare ancora quello che abbiamo fatto. Un primo accenno sulle amministrative emerge ai margini dell'incontro con la stampa per il bilancio conclusivo dei cinque anni. La seconda amministrazione Gamba Corta è iniziata con grandi difficoltà economiche e finanziarie, 4 milioni di debiti fuori bilancio. Poi l'accenno sullo sblocco di progetti fondamentali per la città, dall'ex Giorgione alla scuola Giulio Lusi, alla vicenda del mantenimento del comando stazione dei Carabinieri. Credo che il giudizio sia sostanzialmente positivo. Abbiamo lavorato con grande impegno, con costanza, con grandi collegamenti sia con Roma che con Napoli nel corso di questi anni. Il nostro Consiglio Comunale è stato un Consiglio Comunale che è stato attento alle grandi questioni, riportando una centralità del dibattito politico nella nostra città, sull'alta capacità, sull'Unione di Grotta Minarda, sull'ospedale. Credo che il Consiglio ha lavorato molto bene stimolando anche l'amministrazione a fare meglio.